Gentili telespettatori buona giornata. Un video di Salvini del 2015 dove lui si auspica un'invasione militare russa in breve tempo così l'Italia potrà tornare un paese serio. Era il 2015 e veniva intervistato in giro per Roma. Si divertiva ridacchiando ad auspicare un'invasione armata dell'Italia da parte della Russia di Putin, sostenendo che quello servirebbe a farci tornare un paese serio. Sono parole del 2015. Oggi naturalmente siamo nel 2022. Spesso Salvini in passato ha detto diverse cose che viste poi con gli occhi di oggi fanno rabbrividire. Questa l'ho trovata su un sito proprio questa mattina e volevo mettervi a conoscenza anche di questo aspetto. Salvini che inneggiava un'invasione armata dell'Italia per far capire al popolo italiano farci capire tante cose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.